Convegno double FAS, il rilascio della patente agli OVR 70, 80 e 90 anni e alle persone con patologie invalidanti e il ritiro della patente le modalità per mitigare il provvedimento. Sono questi i temi che si sono discussi nell'appuntamento lo scorso 10 settembre nel piazzale dell'oratorio della parrocchia Santa Madre di Dio a Macerata. Le ultime legislazioni sia del codice che europeo vanno per favorire la guida consapevole. Quindi cosa significa? Che la persona che ha le patologie tipiche della terza età non deve nasconderle, le confessa al medico, ma la commissione medico-locale ha disposizioni normative e codici unionali, cioè classificazioni per cui la patente viene data. La persona non deve avere paura che andare in commissione significa aver tolta la patente.